Ben trovati al TGLIS della Giunta Regionale di Basilicata. Si è insediato a potenza il Comitato di Indirizzo dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro. Lo rende noto l'assessore Cifarelli. Si tratta, afferma Cifarelli, di uno strumento molto importante per monitorare il mercato del lavoro in Basilicata, in modo da assumere le decisioni più idonee al reale fabbisogno di occupazione. In particolare, l'Osservatorio ha il compito di lavorare su tre tipi di analisi, sulla domanda e offerta di lavoro, sui trend occupazionali di medio periodo, sui particolari fenomeni rilevanti per le politiche del lavoro. Azioni e buone prassi sono state messe a confronto in un convegno a Matera, sul tema Nord-Centro e Sud, sistemi di welfare a confronto. C'è tanto ancora da fare e tanto che abbiamo già fatto, ha affermato l'assessore alle politiche della persona della regione Basilicata, Flavia Franconi. Abbiamo realizzato le linee guida e stiamo andando avanti perché vorremmo concludere questa legislatura con gli accreditamenti e con altre azioni. L'assessore regionale alle attività produttive Roberto Cifarelli ha ricordato che la Basilicata non ha ridotto la sua attenzione nei confronti dei più deboli. L'introduzione da parte del Governo nazionale del REI, il Reddito d'Inclusione, è stata positivamente salutata dagli assessori regionali di Lazio, Lombardia, Toscana e Molise. In merito a dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni proprietari dei terreni in località Castagnareto di Lago Negro, la regione Basilicata precisa di aver risolto, con richiesta di risarcimento danni, il contratto con la SOL, Società Concessionaria della Costruzione e Gestione dell'Ospedale Unico per Acuti di Lago Negro, perché quest'ultima non ha rispettato le clausole contrattuali chiedendo ulteriori risorse finanziarie non riconoscibili per legge. Al momento non è stata pronunciata sentenza, pertanto le dichiarazioni su presunti danni a carico della regione sono false. Le somme anticipate dalla regione sono di oltre 8 milioni di euro. La regione ha restituito ai legittimi proprietari i terreni. L'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia comunica che sono 18 le istanze ammesse e finanziabili per un importo pari ad oltre 3,6 milioni di euro che prevedono programmi articolati e progettualità di promozione dell'agroalimentare di qualità della nostra regione che i beneficiari organizzeranno sia autonomamente ma anche condividendo strategicamente le iniziative regionali di partecipazione collettiva a fiere, organizzazione di eventi dedicati e programmi di educazione alimentare. Il Dipartimento Politiche di Sviluppo e Lavoro ha prorogato la scadenza dell'avviso pubblico ricettività di qualità. L'obiettivo del bando è quello di sostenere le imprese del settore turistico per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva e la competitività delle strutture ricettive esistenti, favorire la creazione di nuovi posti letto e di posti di lavoro. Sono ammissibili al bando regionale i programmi di investimento con un importo minimo di 200.000 euro. La compilazione della candidatura è prevista sul portale basilicatanet.it fino al 12 dicembre 2017 alle ore 20. E con quest'ultima notizia si chiude l'edizione del TIGILIS della Giunta Regionale di Basilicata. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.